Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Marco Travaglio, Giorgia Meloni potrebbe dire che comunque lei è di destra e quindi fa politiche di destra. Tu oggi hai scritto che ciascuno usa il 25 aprile per i suoi interessi di bottega, compresi i maestrini della penna rossa che danno dei fascisti a Fratelli d'Italia e pretendono che si dichiarino antifascisti per potersi indignare se non lo fanno. Secondo te Giorgia Meloni è uscita bene dopo questo suo primo 25 aprile da Presidente del Consiglio? Ma agli occhi di quelli che l'hanno votata è uscita indenne, perché è riuscita a non dichiararsi antifascista e a non dichiararsi fascista. Santoro l'ha definita afascista, io direi paracula, quindi i suoi elettori non la giudicano da quello, la giudicano da quello che fa o non fa. Agli occhi miei è uscita pessimamente perché per come vedo io la situazione solo chi è antifascista deve poter guidare un governo o rappresentare le istituzioni, visto che appunto la nostra Costituzione è talmente antifascista che non lo ha nemmeno scritto, perché ogni articolo, come spiegava prima Bersani, è antifascista. Anche l'articolo 11, che ripudia la guerra come strumento di risoluzione, e questo anche la dignità del lavoro, anche tutti i valori che ricordava Bersani, perché è vero che questa maggioranza sta picconando molti di quei valori, ma ci sono anche un sacco di governi presieduti da gente che si è sempre dichiarata e che è sinceramente antifascista, che quei valori li hanno picconati. Le armi come strumento di risoluzione delle controversie internazionali le hanno votate sotto il governo Draghi e sotto il governo Meloni, anche i partiti che poi sventolano la Costituzione dimenticandosi quell'articolo. L'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori lo ha cancellato un governo del PD, il governo Renzi. La Costituzione è stata picconata con varie controriforme, sia dalla destra sia dalla sinistra, quindi ci sono anche degli ipocriti che stanno dall'altra parte, che tirano fuori la Costituzione il 25 aprile e poi se la dimenticano gli altri 364 giorni dell'anno. E questo non va bene, ecco perché io penso che per non ridurci al paradosso, al parossismo, alla farsa di domandarci cosa ne penserà l'ollo brigida del fascismo e dell'antifascismo, un problema che non mi sono mai posto e che spero nessuno si sia mai posto. Io affiderei questo dibattito agli storici perché quando lo affidiamo ai politici assistiamo alla fiera del tartufo a cui abbiamo assistito ieri e l'altro ieri e domani e dopo domani. C'è la russa che va a celebrare un eroe dell'anticomunismo nel giorno dell'antifascismo dimenticandosi che l'unione sovietica di Stalin ha contribuito alla sconfitta del nazifascismo con 28 milioni di morti. Cosa vuoi dire? Che la russa è fascista? Certo, la russa ti querela se non gli dai del fascista, non se gli dai del fascista, ma sono soprattutto dei grandi ignoranti e quindi affidare il dibattito su cose così serie a questi ignoranti è imbarazzante. Allora, lo chiedo a Flavia Perina prima...